Ciao a tutti, vediamo in questo video strategie efficaci per liberarsi di un narcisista. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tremasco, nonché iscriviti al nuovo canale, felicità benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, quali sono le strategie efficaci per liberarsi di un narcisista? Beh, intanto il narcisista bisogna tenere conto che l'unico modo per vero, reale, per difendersi da un manipolatore narcisista è quello di non avere alcun contatto con lui o con lei. Quindi ogni volta che abbiamo contatto con un narcisista, con un manipolatore o una manipolatrice ci sentiremo più fragili, ci sentiremo più bloccati, ci sentiremo persone sbagliate, diciamo, ci logoreremo dentro. Quindi quando ti logori dentro e ti struggi, diciamo, per comprendere i comportamenti che non hanno senso stai cadendo nella sua trappola di sofferenze e bisogno, diciamo, di uscirne fuori. Tenendo presente che il narcisista poi di fatto ti vede come un oggetto di sua proprietà, questo è il concetto di fondo, è nulla più. Non illuderti che ti possa amare in qualche modo, cioè, cosa significa non avere alcun contatto con un narcisista? Significa in primis abbattere la speranza di cambiarlo o di cambiarla, perché il narcisista di fatto non cambia. Non credere che possa amarti in modo diverso, che possa in qualche modo modificarsi, non investire energia in alcuna forma, diciamo così, e non accettare le sue proposte che hanno soltanto lo scopo di manipolarvi. Per fermarlo, diciamo, talvolta devi bloccare ogni possibilità di contatto. Se il narcisista, diciamo, tenta di rieganciarti attraverso provocazioni, lovebombing, cose di questo genere, devi chiudere immediatamente la conversazione e allontanarti. Quando crei un non contatto totale con il narcisista, lui cercherà poi di ravvicinarsi in diversi modi. Ecco, non devi mai cedere a queste azioni, che spesso sono di lovebombing, qualche volta anche un po' di stalking, perché quando si sentono rifiutati i narcisisti mettono in atto una sorta di stalking e quindi bisogna evitare assolutamente di entrare in contatto con questa tipologia di persone. E nonostante ci siano delle difficoltà, è fondamentale interrompere ogni forma di contatto. Quando capisci che hai a che fare con un narcisista, magari in situazioni in cui non è possibile avere un non contatto, perché magari, che ne so, il tuo capo ufficio, per dire, o una persona con la quale devi relazionare, devi sempre utilizzare una comunicazione, ad esempio usare frasi brevi, non raccontare a me nulla di te, non ricorrere, diciamo, devi ricorrere spesso a forme impersonali, in modo tale che non puoi essere associato. Ad esempio si dice, hanno detto, sorridere, diciamo, che non guasta mai, essere educati, non inoltrarsi in discussioni, non andare a cercare di contrastare, né evitare di giustificare, diffidare, essere diffidenti delle forme adulative, perché i narcisisti utilizzano spesso le forme adulative, e in questo modo riuscirai sempre a mantenere la distanza. Ecco, se tu non puoi, per esempio per motivi di lavoro o di staccarti, devi comunque mantenere le distanze, questo è fondamentale. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!